Il primo riscontro è stato appunto il presidio fisso dalle 8 alle 20 in questi giorni del Luna Parca. Tra l'altro noi come associazione abbiamo preso la palla al balzo e a supporto di questo nuovo intervento andremo attraverso le sentinelle di Vicenza e Vicentini a coprire dalle 20.30 alle 24 tutta la settimana la prossima. Un impegno per la sicurezza è quello che si sentono di fare con i Vicentini. L'associazione che ha alle sue spalle anni di storia di lotte contro il degrado in Campomarzo scende in campo un'altra volta e da domani si affiancherà alle pattuglie di polizia locale andando a coprire il turno dalle 20 alle 24. Saremo in Borghese, gireremo in due o tre gruppi dotati di WhatsApp che è il nostro strumento, la nostra arma e chiaramente gireremo in lungo e in largo questa zona come abbiamo fatto da due anni a questa parte cercando di dare un nostro contributo perché riteniamo che ognuno debba fare la propria parte, anche il cittadino. Senza armi ma da sempre favorevole al teaser e al censimento di tutti gli extracomunitari che a centinaia circolano in Campomarzo. L'associazione si è mossa in accordo con l'amministrazione comunale e farà da ponte con le forze di polizia. Sicuramente funzionerà per far sentire più sicuri gli avventori del Parc Verdi che ieri abbiamo ascoltato. Molti la sera tornano a casa dopo una giornata di lavoro e prendono qui la loro auto.